Albano e Romina Power Devastati, l'annuncio straziante sulla loro figlia. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi, riflettiamo su un evento toccante che ci riporta indietro nel tempo di quasi 30 anni. Stiamo parlando di Ilenia Carrisi, la figlia di due icone della musica italiana, Albano e Romina. Attualmente, Ilenia vive a New Orleans, ma proprio in questa data avrebbe compiuto 53 anni. In questa occasione speciale, suo padre Albano ha voluto dedicarle un messaggio che ha toccato il cuore di tutti noi. Il cantante ha condiviso un messaggio speciale, un viaggio nei ricordi. Il 29 novembre 1970, Ilenia, la mia prima figlia. Sopravvivere alla perdita di un figlio è una condanna per me, ma tu sei sempre stata al mio fianco. Nonostante i nostri percorsi abbiano preso direzioni diverse, fatti di pensieri, alcuni magici e altri amari, continueremo a inseguirci nelle strade misteriose dei ricordi, nei sorrisi che avremmo voluto immortalare in foto ma che non sono mai state scattate. Il 5 gennaio 1994, la tua essenza è diventata una parte di me, e io sono diventato un essere senza di te. Eppure, so che sei sempre con me, tanto quanto io sarò sempre con te. Ora e nel momento in cui un giorno salirò a quelle scale del cielo, so che ci riabbracceremo. Anche Romina ha voluto condividere i suoi sentimenti in occasione del 53esimo compleanno di Ilenia, 53 anni fa, sei entrata nelle nostre vite, Ilenia. Oggi mi chiedo se tu sappia che è il tuo compleanno. Una cosa che posso affermare con certezza è che l'amore che provo per te non cambierà mai, e continuerò ad aspettare il tuo ritorno, qualsiasi forma esso possa avere.